Daremo mille euro a persona. Mille euro subito, sul conto corrente di qualunque italiano ne faccia richiesta. Signori, porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insommamente, fortissimamente pilo. Il noleggio di navi private è una misura cautelare che dipende chiaramente dalla situazione internazionale, dalle tensioni nel Mediterraneo e dalle tensioni del Mar Rosso, che non rendono certo il fatto di poter contare per quel periodo sulle navi della marina militare.